Quello che mi ha colpito in questa vicenda, come potete immaginare, mi è capitato di ascoltare la dichiarazione che gli hanno scritto fatta da Luigi Di Maio. Io non avevo più avuto tracce di Luigi Di Maio, più avevo tracce, insomma cercavo di non perdere più tempo. Ieri è entrato di prepotenza nella mia casa, disturbandomi la cena, ho sentito uno spezzone del suo intervento. Luigi Di Maio parlava come se fosse un premio Nobel, dall'alto dei 13 mila euro al mese netti che prende. Per questo le ho detto che io sto invecchiando ormai, queste cose non le reggo più. Ma in quale paese decente del mondo uno che prende 13 mila euro netti al mese, senza avere né arte né parte, si può permettere di parlare in quel modo? La domanda che io farei a Luigi Di Maio, se tu domani mattina non fai il parlamentare a 13 mila euro al mese, come campi? Come campi? Non hai mai lavorato, non hai un mestiere, non hai una propria, come campi? Fammi capire. Questo soggetto si candida a fare il Presidente del Consiglio. E ha avuto l'ardire di dichiarare ieri quando è stato il dibattito parlamentare con una... Vi abbiamo sconfitti, si rivolgeva a quelli del PD, che per la verità in termini di comunicazione sono sempre all'anno zero. Vi abbiamo dato scacco matto, Luigi Di Maio. Ora, noi dobbiamo ricordare a Luigi Di Maio, che lui dopo aver dato scacco matto alla geografia, alla storia, alla grammatica, alla sintassi, con il dibattito di ieri ha dato scacco matto alla decenza. Perché uno che prende 13 mila euro netti al mese, per quello che mi riguarda, deve stare zitto.